Prima di iniziare a guardare il video iscriviti al canale e metti mi piace. In Svezia. Un'onda di freddo estremo fa segnare il termometro a meno 43,6 gradi. Una temperatura non registrata da ben 25 anni. Il sud del paese è particolarmente colpito. Con centinaia di auto bloccate sulla strada e 22 tra orbi e Crisciansta da causa della neve. Le forze armate svedesi sono intervenute per assistere gli automobilisti intrappolati. Consegnando cibo e acqua. La polizia ha invitato i conducenti a rimanere nei veicoli. Non abbandonarli a piedi. Jimmy Anderson. Uno degli automobilisti. Ha dichiarato. Sono seduto qui dalle 10 di ieri mattina. Ma c'è speranza. Stanno iniziando a spalare davanti a noi e le auto si stanno muovendo. La situazione è complicata anche in Finlandia e Norvegia. Con temperature record e conseguenti problemi di trasporto. In Svezia. L'Agenzia Meteorologica Nazionale segnala le temperature più basse di gennaio dal 1999. Con picco di meno 43,6 gradi nella zona settentrionale. Le compagnie di trasporto locale sono costrette a sospendere le corse. E la compagnia ferroviaria locale annulla tutti i collegamenti a nord di Umea. In Finlandia. Le temperature scendono a meno 38,7 gradi. Causando problemi nelle condutture idriche a tampere e interruzioni nei trasporti. In Norvegia. Oslo si prepara a un fine settimana gelido con previsioni di meno 27 gradi. Mentre forti nevicate nel sud causano caos con scuole chiuse e voli cancellati. Stoccolma sarà coinvolta dall'onda di freddo a partire da sabato. Grazie per aver guardato il video iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video.